Sei pronta a gareggiare Fede? No Steph, scusa, devi cambiare veicolo, che gara sarebbe con te conciato in quel modo? Guarda che ti batto Fede, il mio attrattore è velocissimo e la conclusione di queste gare non sarà così scontata Fede perché c'è un particolare importantissimo Avremo un tragetto diverso, mentre io dovrò fare mezzo chilometro, tu dovrai fare un chilometro e mezzo Ma perderei lo stesso Steph, cioè hai battuto la testa forte oggi e non ti può fare questa cosa Io non ne sono così sicuro cara mia E ragazzi come va? Io sono Fieri Niki E sono Steph e che stai giocando GTA V E per minuti in un nuovissimo episodio di GTA V con una gara molto insolita Allora l'ha pensata Steph, se non vi piace è colpa sua, io non c'entro niente, non lo volevo neanche fare questo video perché secondo me non ha senso Quindi la colpa è sua Non c'era bisogno di criticarmi già dall'intro Cioè potevi aspettare almeno di fare il primo tragitto e poi nel caso criticarmi No, 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 tiro le mani avanti perché non si sa mai qua Ok, allora vi voglio spiegare il concetto È facile pensare tipo, ah il trattore perde contro la macchina sportiva, fin lì ci arriviamo tutti Ma quando andiamo a triplicare, quadruplicare, eccetera, eccetera, il tragitto, chi è che vince? Non lo sappiamo perché non sappiamo esattamente quanto va più veloce una macchina sportiva rispetto al trattore Ma molto però è molto più veloce Ma quanto, Fere, lo sapresti dire? Molto è un'unità di misura Allora facciamo già un gioco Quante volte vuoi più veloce? Quattro, cinque, sei volte, quanto vuoi più veloce? Non lo so, facciamo la prima poi vediamo Beh, non lo so, non te lo so dire adesso Allora, facciamo vedere come funziona la prima gara Praticamente questo è il tragitto che devo fare io col trattore, ovvero 514 metri Mentre Fere dovrà arrivare fino a qui, che sono un chilometro e mezzo Quindi praticamente Fere dovrà riuscire a fare tre volte il mio tragitto nel tempo in cui io arrivo al mio Ok, Fere? Ok Sei pronta? Sì, vai Sei sicuro? Guarda come sgomma? Guardami, guardami, guardami Eh? Hai paura adesso? Stai facendo vento, Steph, smettia 3, 2, 1, via! Parti, 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 parti Vabbè A dopo A dopo Ci vediamo, non so dove, Steph Però dai, io credo in te, credo nel tuo trattore Almeno io non potrò mai sbattere in una curva perché vado talmente lento che non c'è pericolo No, ma neanche io perché la mia si guida bene, non ti preoccupa Ok, io sono abbastanza vicino Fere Quanto ti manca a te? Lo vedi in basso a sinistra 600 metri, 500 A me 100? Ma va, è serio? Forse ce la fa il trattore? Hai fatto a fare un incidente perché stavo pensando a te Il trattore, il trattore è arrivato Ma davvero? Sì E allora non è così tanto più veloce Ok, allora a te mancavano più o meno 500 Quindi io all'incirca ci metto il doppio Così poco Fere Mi sembra davvero particolare È strano Io pensavo saresti stato molto più lento Anche io Allora Però ho una teoria Ok Che più è lungo il tragitto Più si sente la differenza Perché più tempo passa Più i tuoi chilometri orari di vantaggio danno un bel vantaggio Lo so che non stai capendo nulla ma ci sono io, tranquilla Quindi noi andiamo ad aumentare le proporzioni Quindi teniamo sempre il rapporto 1 a 3 Ok Però andiamo ad aumentare la strada Io farò 800 metri E quindi tu farai 2 metri a 4 Quindi questa volta io devo fare 826 metri Ovvero da qui a qui È un tragitto davvero piccolo se lo guardate Fere invece dovrà fare da qua fino a qui Esatto È un bel tragittone Fere Cioè guarda la differenza Tu devi fare fino a qui Però stavolta c'è strada dritta È da contare che comunque io ho fatto tante curve nelle curve Esatto Poi rallenti Esatto Infatti ci teneva a darti una roba un po' più rettilineosa Chiamiamola così Rettilinea bastava Rettilinea era molto meglio 3 3 2 1 Via Ok vado Porto Forza 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 trattorino Quanto sei lento piccolo trattore Povero Non lo criticare però dai Proprio sulla partenza è terribile Cioè ti fa passare la voglia di vivere Poi piano piano almeno un po' di velocità se la prende Però All'inizio è terribile Io ti dico ho già fatto 100 metri Quindi sto andando velocissimo Come sta andando? Stai facendo molti incidenti Fere? No Strada dritta quindi abbastanza semplice Dai questa volta sì Sono a un chilometro e quattro Quindi una l'ho già fatto Io devo fare mezzo chilometro ancora Ok Eh non lo so chi è in vantaggio adesso Eh non lo so Perché comunque Un chilometro è tanto da percorrere Mi mancano 300 metri prevalentemente Vedo ormai il mio traguardo Fere Non è troppo lontano Tu come sei messa? 700 Vedi che abbiamo sempre quella differenza Se la stiamo giocando eh 600 Ok Quasi 500 Eh no ce la faccio prima io Ma dai Ce la faccio prima io 100 metri Vai trattore Vai bellissimo Io sono a 200 E mi ha preso il civile Vabbè Arrivato Fammi vedere quanto ti mancava Fere? Niente Tipo 100 metri Avevamo una cosa come 100 metri Però hai visto Abbiamo tenuto la stessa proporzione C'è 1 a 3 Però aumentando il tragitto Ti sei avvicinata tantissimo Come si sta sopra il trattore signorina? Bene bene Poi sono curiosa Sono curiosa di vedere come andrà Di vedere se riesco a vincere Capito? Poi soprattutto ora con le curve Non sarà per niente semplice Quindi non lo so Allora in assoluto Ho il posto dove odio di più guidare Quindi non sono minimamente felice Di avere il mio bellissimo macchinone Perché non lo posso praticamente sfruttare In queste curve Però ci dobbiamo provare Anche questo è un esperimento da fare Cioè voglio vedere se quando ci sono le curve Va molto a vantaggio del trattore Oppure se non c'è troppa differenza Ok Fere? Vai Sei pronta? Sì 3 2 1 Via A dopo Fere Beh vabbè Ciao Io adesso sbatterò ovunque Lo so già Ok Bella curva Ah qua però guarda che bel rettilineo Signori che mi sono beccato Ok Bravo Stef Attento a non fare incidenti Scusi Cos'è combinato? Però mi sono ripreso subito Bene così Bene così Fere quanto ti manca? Eh sono a 300 metri Ok Non so se ce la fa No vabbè io odio guidare in questo posto No vabbè Vedi che non è semplice quando puoi in molte curve Invece il trattore C'è da dire che le fa meglio le curve Beh perché non corre Esatto È lento e quindi le fa molto meglio Quanto ti manca? Sono praticamente arrivata a 50 metri Mi arrendo Arrivato Arrivato Cato che è successo? Racconta Ho fatto solo incidenti Anche io in città ne ho fatti parecchi Soprattutto nella prima gara Perché capito? A girare nelle curve È difficile non prendere i civili Guarda non dico che mi potevi raggiungere Invece il trattore Tutti lo sorpassano Tutti lo lasciano andare Non fai mai un incidente Vinci L'avresti mai detto? No 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 Mai nella vita avrei pensato che ci fosse così poca differenza Però con le curve mi aspettavo che sarebbe stata meno Questo è un test secondo me interessante Allora praticamente Fere ha esattamente metà del mio tragitto Quindi dove ho il mouse io Mentre io devo arrivare fino a qui Quindi questa volta è un rapporto 1 a 2 E temo che perderò di nuovo Fere Io devo essere sincero Scommmetterei sul trattore oggi Vedremo Io scommetterei sul trattore Il trattore ci sorprende Stef L'abbiamo criticato Anzi io l'ho criticato specialmente all'inizio Invece oh se la gareggia Così posso salire? No 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 Dai non mi piace più la mia macchina Ma è da un posto non posso Anche volendo non posso Secondo me è talmente lenta che posso stare qui Vuoi provare? No Vuoi stare qua? No 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 Mi ci mancano solo altri incidenti oggi Allora abbiamo un po' di traffico in mezzo È una difficoltà giunta Partiamo lo stesso Beh certo certo Tanto questi guardali Guarda che cercano Bravi bravi Sì 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 E voi sì che siete furbi Fere sei pronta? Sì vai 3 2 1 Via Ok Allora Io la parte più stretta Però non è giusto Sì vabbè ma tanto c'è Allora Prima curva Bravo Stef Devo pensare Anche poi devo guardare costantemente la minimappa Perché non voglio sbagliare strada Sì anche io Infatti c'è anche quella difficoltà Che quando vai con una macchina Prima incidente Veloce È difficile stare concentrati È molto difficile dover guardare la minimappa Eh sì Stef Come si metta? Con il contrattore sei talmente lento Che hai tutto il tempo 200 metri No 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 Bravo Stef Questa era una buona curva Fere questa volta ce la stiamo giocando Sai che problema c'è? È che siamo in salita Stef E tu non le detti Il trattore soffre? No No guarda va tranquillo in salita Fere quanto ti manca? Va lentissimo 100 metri ancora Vedi che non riesco a fare la strada Io sono vicino eh 90 metri 90 metri Uh frena Entra Ce l'hai fatta 3 2 1 Arrivato Guarda io adesso Un secondo e mezzo Tipo due secondi dopo di te E se cambiassimo veicolo Che cosa succede? Non lo so Allora l'ho guidato due secondini Ok A parte i civili Che mi stanno rompendo le scatole Tutto il tempo Stef Non li sopporto più Adesso li sparo Ti giuro che li sparo Stai calmo Volevo dire che mi sembra Leggermente più veloce del trattore Davvero? Sì perché ok Tu lo vedi lungo Ma l'autobus non è che poi vada così lento Se ci pensi Pensa anche nella realtà Un autobus secondo me va più veloce di un trattore Ok Allora perché Non lo so Allora forse io ho sbagliato Praticamente questa volta Mi devo spostare Che quell'ingorgo Ok La sfida è un rapporto 1 a 5 Quindi abbiamo un rettilineo da un chilometro e mezzo Fere ne deve fare soltanto 300 metri Fere dove è il tuo segno? Fammi capire Allora il mio segno In pratica 1, 2, 3 Capito? Al terzo incrocio Questo C'è Capite? Guardate la differenza Di tragitto 3, 2, 1 Parti Via 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 Cannone a cannone Concentrato Eh no più veloce Se sbatto solo una volta Ho buttato giù un palo Stef Ok bravissima Fere Grazie Ok No 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 Ferma ferma Fermatone indietro Ma come? Fere ho incidentato 3, 2, 1 Non so dove andare via Oh mamma mia Dovevamo aspettare il semaforo rosso di questi qua Ok io sono passato da marciapiede Ho risolto in questo modo Perfetto Allora Stef concentrati Quando accelero diventa ancora più difficile Ok Ok Bravo Stef Per ora non ho fatto incidenti Uh Mamma mia che schivata Fere come va Bene Sto andando Sto andando Non è che c'è molto da raccontare Perché è un autobus Quindi non è che sia molto divertente Comunque sono già quasi arrivata Ok Quanto? Arrivata? Sì 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 È veloce Te l'ho detto che è veloce Cioè tu hai messo troppo di distanza Perché è più veloce del trattore Adesso sì È proprio più veloce Sì ma Sembrano lenti questi veicoli Ma poi quando li vai a guidare Alla fine non lo sono poi così tanto Ma io ci rimango male Doveva essere il video più bello dell'anno Con queste sfide epiche Dove proprio arrivi all'ultimo Con quello che cerca di correre Alla sua massima velocità E invece Se vuoi dire già mi in bici Non so Ah Beh la compra Adesso compro una bicicletta Brava E facciamo in bici Perché così si deve perdere per forza Scusami Beh Beh E dai E che cavolo Cioè Sui rettivino Però facciamo a piedi il prossimo Cioè se correndo riesco a raggiungere I 500 metri prima di te Perché non è possibile Fere dove sei finita? Stef non mi posso fermare Cosa vuol dire Non si ferma più Allora guarda Guarda io ti faccio vedere una cosa Ok Sei pronto? Sì Io adesso mi fermo Ok Mi vedi che sono ferma Mollo la tastiera Ok Adesso non lo fa Però se mi metto in discesa Ti assicuro che continua ad andare da solo Cioè questa bici Non si può fermare in discesa Fere non sa usare una bicicletta Ma stai zitto che la so usare benissimo Bene così Allora Comunque allora ti devo Ti devo dire una cosa molto importante Ho comprato una bici da corsa Ok Quindi potrebbe essere molto bella Molto veloce Se dici che rischi di perdere? Fere tieni premuto S Per favore Eh ma poi vado indietro No no Devo fare un bel equilibrio Ok Te lo giuro Stef Non si Partiamo? Se vuoi parto e ti faccio vedere Dai vai 3 2 1 Via 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 Ma dimmi te Cosa mi tocca a portare Oh in discesa sto andando straveloce No Stef aiuto Non si ferma più sto cosa Vabbè Che hai fatto? Mi superi Ah ecco ti ho visto Non ci credo Ciao Stef Non ci credo Manca una curva Gli si può far fare guarda Non manca una curva Non mi prendere Io ero già arrivata Quindi ho vinto Beh ragazzi Lasciateci un like E questa è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerarli Da iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 Grazie per la visione!